Un lampo in una giornata buia per i colori azzurri in quel di Londra. È quello che ha illuminato il palazzetto di Earl's Court. Little Volley maschile batte 3 a 0 i favoritissimi Stati Uniti, campioni olimpici uscenti, e vuole giocarsi una medaglia contro uno storico avversario, il Brasile. A tutti dà quindi la delusione per la clamorosa eliminazione subita ieri sera dalle pallavoliste, ad opera delle sudcoreane. Orochi puntati in piscina dove il sete bello di Sandro Campagna, campione del mondo. Finale del torneo, i forti ungheresi, oro quattro anni fa a Pechino. Per il resto, partiamo dall'atletica. Niente da fare per Daniele Meucci nei 5.000 metri, fuori dalla finale per 8 secondi. 3 nulli invece per Silvia Salis nel lancio del martello e conseguente eliminazione. Nella regata finale ci sono arrivati i velisti Giuseppe Angilella e Gianfranco Sibello, nella classe 49er, ma per loro solo il nono posto in graduatoria.